Buongiorno a tutti, notiziario del Tg Seghizi, sabato 17 luglio a Gorizia nell'auditorium della cultura friulana in via Roma 23, 49esimo concorso internazionale di canto corale Seghizi. Alle ore 9 categoria 1A Rinascimento e alle ore 14.30 categoria 1B Barocco, alle ore 15.30 circa categoria 1D Musica del Novecento, alle ore 21 Festa Open Air con tutti i gruppi partecipanti al 49esimo concorso internazionale di canto corale. Vi aspettiamo numerosi!